Roma è pronta e Rieti tifa le sue stelle. Gli europei di atletica della capitale iniziano domani, venerdì 7 giugno, e durano fino al 12. Ben 113 azzurri, 21 dei quali laziali, 4 reatini di diritto o acquisiti. Tutto in diretta tv, ma vederli dal vivo è ancora più bello. Gli occhi degli appassionati sono per il bicampione olimpico e campione europeo in carica Marcel Jacobs, ormai di casa al Guido Baldi, e per il reatino Doc Mattia Furlani, per tutti pronto a battere il campione di tutto, il greco Tentoglu, dopo l'argento mondiale a Glasgow nel lungo. A tifarlo c'è anche l'amico e concittadino Andrew Au, speciale speaker degli europei. Senza dimenticare che ci sono da seguire Roberta Bruni nell'asta e Stefania Strumillo nel disco, la prima reatina cresciuta nella studentesca ora di casa in Spagna, la seconda a Rieti con Roberto Casciani. Alla vigilia delle gare, conferenza di presentazione degli europei e grande carica per Marcel Jacobs, che al Guido Baldi sta costruendo il suo 2024 tra europei e olimpiadi. Il velocista sarà in gara sabato sera tra semifinali alle 21.10 e finale 22.53 e punta a confermarsi. A Roma ho costruito le mie medaglie olimpiche e voglio restituire qualcosa al pubblico questo weekend. Siamo una grande squadra, importante è correre divertendomi e sorridere. Sì, ho pressione, ma la trasformerò in energia. E alla domanda se è pronto a tornare sotto i 10 secondi, non è diretto, ma Jacobs si fa capire. È solo caricciato che si riesca a mettere insieme i pezzi. L'ultima gara mi ha dato sicuramente tanto, ma manca ancora tanto. E spero che questo weekend, avendo anche le due gare, una o l'altra, si riesca a mettere insieme i più pezzi possibili, ma sono noti. Sono fiducioso che nel momento in cui correrebbe bene, mettere insieme i pezzi, il tempo arriverà automaticamente. È carico e pronto a spaccare tutto, con la freschezza dei suoi 19 anni, Mattia Furlani. Qualificazione venerdì mattina alle 12.55, finale per la midaglia alle 20.06 di sabato. Sereno alla vigilia delle gare, a casa atletica italiana ha fatto capire di voler dare tutto in casa. Può stupire e il primato italiano di Andrew è a solo 11 centimetri dal suo 8.36. Rieti Life seguirà con articoli e foto Roma 2024 per vivere gli europei da protagonisti.